Chiusura e rialzo per Piazza Affari. A Milano l'indice Fuzzimi barchivi alla seduta avanzando dello 0,36% a 21.613 punti. L'all share segna più 0,40% a 23.043 punti. In Europa tutti i dispositivi principali listini. Francoforte termina le contrattazioni a più 0,99%, Londra chiude a più 0,62%, Bene Parigi a più 0,59%, più contenuto rialzo di Madrid che archivia un più 0,24%. Tornando a Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,78 miliardi di euro, in caro del 5,46% rispetto ai 3,99 miliardi di mercoledì. I volumi si sono attestati a 1,46 miliardi di azioni rispetto agli 1,69 miliardi precedenti. Tra i migliori titoli di Piazza Affari viene Banca Popolare di Milano con un progresso del 4,8%. Tra le altre banche positiva Montepaschi de Siena a più 2,81% nel giorno della convocazione del CDA per discutere un ritocco all'insù della ricapitalizzazione. In primo piano Mediobanca ha un forte aumento del 2,49%, decolla Azimut a più 2,42%. In caduta libera invece Campari che lascia sul terreno il 3,01%. Pesante anche Autogrill in calo del 2,80%. Seduta da dimenticare per Banco Popolare che crolla del 2,04%. Calo deciso anche per Banca Popolare dell'Emilia-Romagna che segna un meno 1,77%.